Le emozioni sono tantissime, perché per me è la mia edizione, per me è stato benissimo, mi viene molto bene e le emozioni sono indescrivili, quindi siamo felicissimi e possiamo aggiungere qualcosa di tutto. Sì, posso aggiungere che io e Luigi ci conosciamo da tantissimi anni, siamo cresciuti insieme come atleti e come persone, quindi per me condividere con lui questa medaglia è ancora più speciale, perché siamo i vecchietti della nazionale, quindi ha ancora un valore particolare. Però non vogliamo piangere. No, senza piangere. Lo sport è una scelta di vita, quindi se hai certo di fare questo sai che vai incontro a queste cose qua, al rischio di allenarti per una vita intera e non raggiungere l'obiettivo, al rischio di farlo e poi raggiungerlo ed essere felice, alla fine siamo felici per una medaglia al colo, però siamo consapevoli, se ne sei consapevoli quanto fa questa scelta qua. Personalmente è così, quindi ho preso sempre in modo molto serio e lo porterò avanti sempre in questo modo qua. Però c'è anche tanto divertimento, siamo anche privilegiati, siamo fortunati a girare il mondo, a provare certe emozioni che un giorno non proveremo più o proveremo in modo diverso.